ma buongiorno giganauti benvenuti bentornati su questo canale primo agosto signori miei è iniziato agosto e quindi cosa facciamo andiamo a fare un aggiornamento di tutte queste offerte telefoniche dei vari gestori non ci sono tante novità ve lo dico di già però è giusto per darvi una rinfrescata visto che siamo in agosto sinceramente di cose interessanti ce ne sono due due sì che dopo vi farò vedere anzi 31 però la conoscete già l'altro non so se la conoscete mi è capitato così di vedere poi magari lo vediamo insieme riguardo oltre veri mobile anche a che di quelle tariffe un po nascoste ma iniziamo bene ragazzuoli da così iniziamo tutti insieme in coro iliad eccola qua o è tornata la flash 200 giga 5g 999 con minuti sms limitato vedete abbiamo tempo fino ai primi di settembre altri 42 giorni è proprio fresca 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 questa offerta qui e poi il resto bene o male siamo lì 120 giga 799 però questa non è in 5g a differenza della 250 giga 11 99 in 5 giui e poi c'è quella solo dati o la voce la cosa inter interessante interessante si fa per dire perché anche iliad ha aumentato i prezzi e non ha non ha rimodulato perché non rimodula però ha cambiato quindi aumentato di 2 euro la fibra va bene che è un wifi 7 quindi una tecnologia molto più avanzata però come potete notare non è più 19 euro e 99 ma è 21 euro e 99 al mese per utenti mobili iliad con un'offerta da 9 99 o 11 99 al mese e pagamento automatico vedete tecnologia wifi 7 per chi non lo sapesse cioè si può utilizzare sfruttare questa offerta a 21 euro e 99 per avere questa fibra super mega veloce però devi essere un cliente iliad ma in più devi avere anche almeno un'offerta che parta dai 9 euro e 99 esempio questa qui che c'è da 200 giga e mettere il pagamento automatico allora potete utilizzare e sfruttare questa fibra 21 e 99 se no se siete altri clienti vi beccate questi quasi 26 euro 25 e 99 vi voglio solo far notare che effettivamente se ci avete fatto caso tutti i gestori piano piano stanno tendendo ad alzare un po il tiro è normale come quelli da 5 99 incominciano a togliere incominciano già 6 99 si danno più giga però sinceramente come ho già detto in tanti video come ad esempio me a me tutti sti 150 150 giga non mi servono e però loro tendono a aumentare 7 8 euro attenzione 6 99 6 e 96 99 ragazzi sono 7 euro e non sono 6 euro quindi anche questo fattore psicologico di fare tutti questi prezzi ma anche nei negozi in giro e come dire un po sconti fino al 70 per cento poi entra nel negozio e c'è magari una un prodotto che è scontato al 70 per cento e tutto il resto invece non lo è è giusto per attirare l'attenzione ma andiamo avanti e passiamo alla copertura vodafone il mio amico caro o mobile che naturalmente sotto trovate il link in descrizione ma a questo proposito già che ci sono con o mobile vorrei ringraziare queste persone perché con il porto un amico naturalmente voi cosa fate oltre a ricevere anche voi cinque dieci euro adesso non so che cosa li ricevo anche io e tra queste persone qui che sono passate a o vorrei ringraziare gli ultimi che si sono iscritti giancarlo edoardo francesca guglielmo emiliano questi diciamo che sono tra gli ultimi che hanno utilizzato il mio link e sono passati hanno attivato una sim o mobile grazie se non c'è il vostro nome ancora perché siete passate o mobile io non l'ho ancora ricevuto quindi mi sa che sono ancora lì è in lavorazione bene tornando a mobile è sparita quella 5 99 da 100 giga quello che poi avevo io a novità sapete che non posso passare non posso fare la portabilità porca miseria me sono accorto dopo perché volevo contattare o mobile per per sapere se c'era un escamotage per ovviare questa problematica no perché io ho già fatto la portabilità con questo numero mannaggia non mi ricordo da da chi e da cosa però ho visto che ho già fatto la portabilità quindi non posso passare il mio numero principale quello di poste mobile che è lì non è attivo sto utilizzando mobile e adesso niente voglio mi voglio informare come come è possibile se è possibile fare un qualche cosa non so sai carta smarrita riattivi un'altra sim però dopo quelle sempre sotto il tuo account risulterebbe sempre che hai fatto la portabilità devo risolvere questo problema vediamo un po se ci riesco poi al massimo ve lo farò sapere ritorniamo o mobile vabbè le offerte sono sempre lì tranne quella 5 99 che non c'è più ci sono queste quattro diciamo interessanti le offerte 5 g che sono 200 e 250 giga in 5 g 9 99 avete visto 11 99 oppure senza 5 g a 6 99 8 99 150 e 200 giga se andate in basso naturalmente trovate anche quella la solo voce è quella per connettere i propri dispositivi tecnologici uno mobile siamo sempre lì 120 giga 7 99 200 giga 9 99 99 7 90 scusate 120 giga e 7 euro e 90 200 giga 9 euro e 90 tutte e due in 5 g poi ci sono le altre primo mese 4 99 altrimenti dopo vedete dal secondo mese 9 99 220 giga 150 180 insomma ce ne sono tantissime andiamo avanti sempre copertura vodafone anti mobile qui ci sono sempre queste bellissime offerte per insomma sono più interessanti sono quelle perché sono annuali però c'è anche qualche cosino mensile ad esempio 30 giga 2 99 al mese minuti limitati verso tutti offerta valide per gli utenti con età a partire da 50 anni compiuti quindi come il sottoscritto vedete over 50 poi vediamo un po tutela bene o male siamo sempre li vedete c'è questa 150 giga 5 49 è un piano mensile anche qui ci sono 30 giorni alla scadenza 50 giga piano mensile c'è sempre l'attivazione di 9 99 poi mi sa che ci sono c'è ancora quel 5 euro per la spedizione bisogna leggere bene poi questa qui che pagamento annuale anticipato 3 99 per 50 gigabyte anche qui altro piano annuale e poi c'è la wow i due giga per tutte quelle persone che non è che gliene può fregare tanto di navigare le minuti sms limitati verso la rete enti mobile e poi vedete ce ne sono tante altre e così via via o quella di finalmente poste mobile è andata un po a pareggiare i conti anche lui mettendo questa 150 giga 76 e 99 che bene o male vedete come o mobile anche loro sono siamo lì insomma ci stiamo girando con 150 giga a 6 99 e qui diciamo che poste mobile appareggiato promo valida fino al 30 settembre crediti limitati sarebbero le chiamate gli sms sono compresi e poi c'è questa 5 99 con 50 giga un po pochini però ci c'è perché vedete tutti gli altri bene o male le stanno facendo sparire poi c'è se volete sempre di più i soliti 300 extra wow 300 che comprendono anche le chiamate 11 99 oppure 9 99 per chi dovesse navigare chiamare ben poco sono pagate 18 centesimi per minuto sms poi c'è interessante anche quello di federmobile che anche lui si è incominciato a pareggiare un po con queste offerte telefoniche vedete 100 giga 150 200 giga fate sempre attenzione perché sono in portabilità ma attenzione anche perché esempio 7 99 al mese offerta attivabile solo per la portabilità che non sia vodafone o mobile se invece provenito da vodafone o mobile vi sussate un euro in più al mese andiamo avanti sempre copertura vodafone like a mobile 5g incluso ne abbiamo 350 giga vedete 7 99 200 giga 9 99 250 11 9 siamo sempre di bene o male tutti battono su questo su queste offerte ma come si fa come si fa ma lo stavo dimenticando ancora qual è la migliore offerta che c'è sul mercato in questo momento che è ottima me lo stavo dimenticando anche già l'altra volta mi avete sgredito perché non avevo menzionato ed è questa qui 4 95 100 giga minuti limitati al 200 sms rinnovo mensile 4 95 il costo della sim 9 90 spedizione gratuita 14 euro 85 prima avevano anche 200 giga in più l'hanno tolti avevate 120 giga addirittura sempre 4 95 adesso è tornata con questi 100 giga metto anche fast web che ancora non si capisce bene in che capo di copertura si vabbè win 3 team però intanto andrà sotto copertura vodafone perché sapete che acquisito vodafone quindi fast web la tengo sotto copertura vodafone quindi quando ci sarà il passaggio sarà quella la copertura e anche qui 7 95 interessante 150 giga quella la più venduta e quella da 200 giga 9 95 poi ci sarebbe anche 300 giga a 11 e 95 bene adesso passiamo alla copertura win 3 poche novità partiamo da spuso c'è questa qui diciamo la più tra le più interessanti ci potrebbe essere no ci potrebbe essere c'è che è 200 giga minuti limitati 500 sms oltre il fatto va beh il primo mese di 4 euro e 98 e poi a 7 euro e 98 ricordatevi che ha sempre i giga di riserva questo è molto interessante ancor più interessante sarebbe va bene 98 200 giga con la riserva ed è in 5 g quindi per chi dovesse utilizzare molti giga magari non li utilizza tutti li può sfruttare il mese successivo insomma queste offerte qui non sono niente male andiamo con questa offerta che è quella l'offerta che la nascosta ancora meno io sto vedendo che la pagina attiva se di clicco sopra per avere l'offerta mi mi dice di inserire i dati probabilmente è ancora è attiva quindi non so sfruttato 4 euro 99 150 giga se mettete l'auto ricarica come sempre poi le offerte bene o male sono sempre quelle di prima che sarebbero queste qui la 5 99 150 ecco qui ancora resiste 5 99 come vedete dal di qua 150 giga 5 99 poi andiamo 200 250 320 giga date in basso ci sono quelli solo dati ok 600 giga addirittura altro operatore copertura win 3 abbiamo cm link che anche qui è interessante perché c'è quelle sempre queste in 5 g vedete 150 100 giga annuale o 100 giga pienale quindi per due anni questo il prezzo totale per due anni quindi pagate in anticipo in 5 g questo è interessante quella da 150 giga perché sono circa 8 euro questi qui 8 euro e qualche spiccio al mese sarebbero però il pagamento è annuale ma qui danno vedete altri 100 giga quindi avrete 250 giga al mese per un anno poi dopo tornerà a 150 giga minuti limitati locali mille minuti verso la cina 200 sms poi inclusi sono 6 giga in roaming dati cina continentale più 10 giga mese per i primi due mesi quindi questo è molto interessante per chi dovesse contattare la cina poi ci sono quei piani sempre annuali però con non in 4g e insomma dai potrebbe essere interessante anche questo qua e adesso passiamo alla copertura in partiamo da iscari che è sempre lì c'è sempre questa offerta 200 giga in 5 g e 9 euro e 99 poi c'è copvoce vedete che sei giorni alla scadenza di questa offerta da 150 giga 7 90 questa evo 30 vabbè lasciamo perdere e 200 giga a 9 e 90 la cosa interessante per chi fosse interessato magari stava pensando di passare una copertura team e voleva passare a copvoce ma non gli servono tantissimi giga gli potrebbero bastare 50 giga allora aspettate aspettate questi sei giorni che scadono perché dovrebbe scappare fuori oltre un'offerta anche un bonus quindi abbiate pazienza poi voglio passare su kena perché ho letto guardato in giro mi è stato anche segnalato insomma e ci sono delle due tariffe che sono nascoste un po come quella di veri mobile ho provato sono andato a vedere sembra c'è questo e c'era mesi fa era scappato fuori questa offerta però c'è ancora online poi non so se va a buon fine però se mi può interessare magari vi lascio il link sotto in descrizione di questi di di kena queste due offerta di queste due offerte un e 5 99 l'altro e 4 99 però intanto vi faccio vedere l'offerta questa qui vedete addirittura c'è un buono amazon di 10 euro il primo mese è gratuito poi se mettete anche l'auto ricarica avete 100 giga in più al mese cioè ragazzi cosa volete di più vedete 230 giga con minuti limitati 206 messa 6 99 non vi sbagliate confondete questi 230 giga sarebbero già compresi con l'auto ricarica quindi qui sono 130 giga 6 99 più 100 giga se mettete l'auto ricarica e qui è la stessa identica cosa tranne questo qui però da un giga che lui non può essere attivato con quei 100 giga in auto ricarica e anche questi di 5 99 sono 100 giga 750 giga mettete l'auto ricarica 100 giga in più qui 100 giga più di qua e anche 100 giga in più a questo vedete portabilità un mese gratuito c'è il buono amazon eccetera 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 ma vi faccio vedere dove ci sono le due pagine due offerte che una flash 100 online che questa qui da 4 euro e 99 con 100 giga vedete minuti limitati chiamate verso tutti bla 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 se io faccio acquista e qui mi dice naturalmente esclusivamente importabilità mi dice di selezionare il l'operatore e poi non so mettiamo uno mobile poi devo mettere il numero di telefono dichiaro di essere titolare bla 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 e poi faccio continua dovrebbe essere interessante questa cosa 4 99 e poi c'è anche quell'altra che è questa qui 5 99 con 200 giga vedete edizione limitata con 200 sms 5 99 il volte in 4g bla 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 vedete un po voi se vi può interessare una copertura team di china io al massimo trovate il link sotto in descrizione e dove dove poterle visualizzare poi che funzioni non funzioni questo vedete a voi quindi ragazzano io mi fermo qui questa è la rinfrescata del primo agosto delle migliori offerte telefoniche che potete trovare da tutti questi gestori guardate vedete un po la vostra copertura quale la migliore e scegliete magari tra queste offerte in base alle vostre esigenti io vi ringrazio e vi saluto per se siete stati qui fino alla fine del video noi ci vediamo prossimamente il solito saluto alle nuove vecchie iscritti il solito abbraccio a chi mi vuol bene ciao ciao da te ciao 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 ciao